Buonasera fanciulli, nuova guerra, potenziamento attacco, siamo più o meno pari e io sto guardando gli avversari e vi giuro che non so chi attaccare. Ho voglia di prendermi il polvo perché sono un autolesionista e non mi dispiacerebbe andare con i miei verdi e non saprei chi mettergli supporto, potrei mettergli supporto a una coppia di rossi perché dispellerceli ho verdi, verdi con i verdi no, viola col polpo no, andare con il blu no, andare con i rossi no e io ho deciso che vado con i miei verdi. Allora, e gli mettiamo grazzo e dove sei tu? Buona tasca, allora le truppe, tu prendi la 25, tu prendi la 20, tu la 15, incrociamo le dita e speriamo di non aver fatta troppe cagate. Grazzula quantomeno dovrebbe proteggermi dalle uena e così via. e oh, la bordo non è male, io avrei subito un quartone verde sulla destra se sposto il viola e non dovrebbe scoppiare niente, ok, quindi mi faccio il quartone qua, il tressino qua e sparerei, puoi andare al centro io sì, andrei, andrei al centro, penso un po' allora travolta schemi serono otto tessere quindi il quartone in realtà non mi serve anche se allora se facessi il quartone rosso no, io invece allora se faccio il quartone rosso mi avvicino i due verdi, se io faccio il rosso verticale invece questo qua potrei sperare che scenda un verde ma no ok allora, se faccio il gialli per viola, polpo a parte, tanti saluti a tutti forse riusciamo ad attivare Kingston guarda che roba, spettacolare, guardala lì, quanto mi piace eh, vabbè pazienza adesso andiamo così lei ha schivato perché è un po' bastarda andiamo sulla guena che è morta e se non schiva salutiamo Frigg e ora è andata no, 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 non è questa cosa che io voglio fare ma perché? ok ce la possiamo fare, eh allora questa è la squadra, questo è il nemico, il doppio giallo non so se parte Bastet, siamo un po' fregati mi abbassa la difesa, me la potrei rialzare no, non me la posso rialzare tanto quindi direi che ci teniamo la difesa abbassata però a me piace e quindi andiamo ok allora potrei fare un diamante viola che in realtà non mi serve perché a me bastano 6 tessere io ne vedo 3 l'alternativa è fare i blu se io faccio questi blu ho un tris lì me ne scendono giù 2 sulla sinistra e basta però se faccio il diamante mi scendono i due verdi quindi che schifo schifo non mi fa certo poi se non li carichiamo tutti è meglio dunque se faccio partire il diamante adesso parte Bastet se faccio i verdi contro Finlay a parte che non mi carico un accidente di niente a parte che ridendo e scherzando ammazzo il coniglio per cui si rinuncia ai miei viola e andiamo giù così no 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 non toccare la bus porca miseria ho toccato Bastet andiamo se a qualcuno togliamo lo schiva noi l'abbiamo tolto a mamma a Natale però Bastet mi rompe di più le scatole andiamo rapida quindi cominciamo sì andiamo così non ci preoccupiamo allora viola tre verdi contro di lei no Finlay però praticamente è carico per cui noi facciamo anche così ah no non volevo perché poi mi si carica mamma adesso farò le cazzate per cui oh che cosa meravigliosa adesso possiamo uccidere in simpatia mamma a Natale ok andiamo su Finlay con calma senza muovere la port potevo probabilmente tirar gli utrisi in faccia che facevo prima ma ok adesso aspettiamo che muoia e si rianima e si rianima allora via tutta sta roba e ora dovrebbe morire no perché si è rianimato è finito Finlay fammelo sapere lo so che io ti abbiamo dei trascorsi ecco allora cosa stai facendo mi vuoi attaccare allora vediamo se ho fatto una buona scelta e oi buono no no non è vero allora io posso fare il tris orizzontale rosso mi piazzo un tris viola sulla destra e poi aspettiamo l'eterno e fra l'altro mi parte giù mi partono giù anche i gialli se faccio verdi per rossi non mi serve però è vero che poi mi rimangono qui i rossi là soli soletti se sposto il blu no non mi sa secondo me è ancora meglio questo ok allora oltre il tris viola di là potrei fare un cortone rosso che non ho idea se mi serve tre loro partono in otto ok dunque ah sono un po' in crisi su che mi sa fare perché se però se faccio i blu no io mi faccio i rossi che se parte il blu quantomeno mi mangia via i mini ok ok come siamo qua a tre tre e sei e poi abbiamo finito che di viola non ce n'è più di viola non ce n'è più posso fare di nuovo i rossi ma siamo sempre lì posso fare rossi per blu parte ulda se faccio tre però rossi per blu potrebbero entrare in viola alternativa rossi verticali non arrivo ad ammazzare Wolfgang perché ha fanno vedere quanto ha 607 di vita davvero rossi per blu se facessi verdi per gialli sulla destra non so come muovere questo a bordo ragazzi io davvero non lo so anche perché se non mi fai entrare di cazzo di viola io cosa devo fare noto di viola che miseria ladra allora tanto allo schiva ah lei mi fa un botto di male però io dovrei riuscire a curarmi facendo così no perché ho contato male le tessere madonna sentilo il dolore facciamo così sì che poi perché ho mirato che tanto sono tutti schivami viola che mi dà un rosso che non è sufficiente che fa partire il tris giallo sul e vabbè parte anche mamma buonanotte al secchio se faccio il blu su anitra potrebbero partirmi i rossi e i viola se faccio se faccio il tris giallo o il diamante giallo uno dei due mi preparo un tris viola mi preparo un tris viola che in realtà non mi serve per cui facciamo così speriamo speriamo e moriamo madonna sentilo il male fermi questo è uno zero garantito proprio c'è neanche neanche sì però ragazzi così non si può quello riparto un'altra volta io cosa cavolo devo farci anche lei buonanotte al secchio ecco questa è andata proprio male come la vedo male anche questa ha fatto un bellissimo zero quindi non contenta ci torno con una board decisamente meglio allora ho sei blu a disposizione io penso che cercarne altri rossi un cavolo per fare i rossi dovrei spostare gli altri no io preferisco portarmi a casa sei blu e vedere che cosa mi arriva mi arriva che carico tutti cioè se vuoi che ti arrivi ma cosa vuoi che ti arrivi però tre rossi faccio partire quantomeno scavo e vediamo sui blu ci lavoriamo a rossi verdi però bene vediamo se scendono i blu diciamo così lo so che scadi il mur non è che vadano esattamente d'accordo però se uno non ha scelta non ha scelta anche perché adesso parte pure mamma quindi occio eh lo so non resisto io diamanti più forte di me quindi non ditemi niente per favore figurati se no la rianimava ti ardeci proprio bastarda allora no no mettiti pure ce la facciamo ad ammazzare almeno un minion merdosissimo sono commossa sì però adesso parliamo un attimo mi sembra un po' una presa per i fondelli questa detta fra noi allora tu muori ma a me servono rossi o blu se lo sparo scende tutto di uno quindi non mi interessa lei se ne va io sono un po' più contenta e mi si fa dello spazio e caricare i blu e caricare i rossi se io sparo via i verdi e mi partono i blu diretti in faccia a lui e vediamo cosa succede dopo succede che muoio perché non sono una persona intelligente non sono una persona intelligente fermi tutti sì passiva fermi tu stai per partire un'altra volta mi hai veramente rotto le balle lo so che non ci sono minion adesso ma sarebbe bello se tu iniziassi a soffrire un po' quindi potrei spararti viola e vedere se entrano il blu dietro così pian pianino anche tu inizierai ad accorgerti che se muori mi fai più contenta viola per rossi ok si muore oh la è andata è partita comunque c'è ancora lo scrivo quanti turni ci sono di scrivo due sì cinque minuti rimasti va bene questo è calmino però ok iniziamo a dar fuoco a lei diamante diamante che per ora ci basta così ah c'è mamma pronta che due palle se faccio il diamante rosso tu di vita è un botto vediamo se mi entra nel blu così ovviamente certo l'unica stronza dovevi far rianimare tu perché se no non si è contenta vediamo se muore perché se no ricominciamo col giochino dello schiva che palle ragazzi no no ma ancora lì tutti allora io spero la qualunque su mamma perché ovviamente le ha schivati tutti cazzo l'ho riuscita ad ammazzarla Anitra adesso ho tre minuti e io la perdo quella cura quella cosa ma va che gare basta poi io perdo la pazienza e finisce che gioco cazzo di cane tessere ne ho avute non posso dire di non averle avute mi tira fuori son fregata non che la partita stia andando meglio andiamo se riusciamo a farti fuori perché adesso avresti rotto le palle no ovviamente ogni volta che io provo a farti danno tu giustamente ti ricarichi di vita perché io sono scema e non me lo ricordo mai un minuto e trentasei e sono ancora qui a pettinare le bambole vabbè vabbè muori oh parliamone che ovviamente schivi perché sei un po' zoccola ma io un minuto non è che posso aspettare 18 turni un turno un turno si lo posso aspettare tanto bruciano anche te ormai non ho tempo non ho tempo non ho tempo non ho più tempo ho 32 secondi e non ce la farò mai se poi ti curi esiste una vaghissima possibilità sto giocando veramente a cazzo di cane ma 18 a 7 secondi e devo anche scappare siccome il suicidio mi piace ci siamo presi un nemico proprio alla nostra portata guarda mi ha innervosito la partita di prima ma va che gara ci ho anche pensato ho detto ma se facessi una squadra di blu eh se facessi una squadra potremmo anche caricare il pulpo subito ora qua sarebbe una figata facciamo i tre viola orizzontali al centro fanno partire i blu fanno partire i verdi mi scendono dei rossi che forse forse ridendo e scherzando potrebbe non essere male l'alternativa è andare a farmare sulla destra viola per verdi su kufu che mi sembra assolutamente intelligente se faccio il tris viola sinistro orizzontale non succede niente ma non c'è niente neanche che mi avvicini i miei ma no se faccio l'altro invece se faccio il verde qua non mi partono combo mi partono i viola invece mi partono i viola allora se faccio così mi va giù il tris viola il blu no ma il rosso non riesco a capire dove va quindi io ho deciso per la super combo di dio e puliamo il bordo perché qua non se ne esce ma già mi piace di più mi piace di più a noi servirebbe il quartone come lo facciamo il quartone se le faccio scendere tutte di uno non ha senso se faccio il tris blu mi avvicino due gialli non faccio rossi a meno che non mi scendano e o i bo sono scesi quindi già la cosa diventa un po' più fattibile allora io farei così per tanto lui si abbassa ciò semmai il tris da fare quindi vorrei tanto che si facesse male pure ok quanto hai di vita tu? 40 si ce lo facciamo poi è rimasto vivo KUFU non far attivare KUFU allora mi basta a parte Quentin sì però a me questo basta questo basta è una parola grossa è KUFU praticamente morto quindi non sono preoccupata ho tempo anche per curarmi per fare qualche voglia tu parti pure come ti pare che adesso che Nel ci saluta meglio qui là allora c'è anche la mia Ulda però non la userei io qua perché Emilio è infame e ho bisogno di tenermi di tenermi curata se ho una board blu come quella ehi ciao che avevo avuto prima allora prima questo Tris sì perché se faccio l'altro lo perdo ok cioè ok è una parola grossa però noi diciamo ok allora due viola non mi servono però se facciamo così vediamo se arrivano i blu che meraviglia Emilio è quello che al momento mi dà più fastidio di tutti e ci saluta sì lo so che vado a stuzzicare le onida ma va bene così vediamo 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 Peccato per il bersaglio che mi sono scelta prima, ero convinta di farcela con Gormek, ho sbagliato e la seconda squadra per la polizia era una roba inguardabile, comunque noi abbiamo ancora 83 attacchi, gli avversari ne hanno 114 quindi tutto da vedere, io alla fine ridendo e scherzando ho fatto 223 punti, tanto schifo non mi fanno e speriamo vada tutto bene, buonanotte fanciulli!